segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te amo un leader votato dagli italiani senza le televisioni senza il conflitto di interessi va bene il tweet è evidente al di là di tutto una differenza perché un conto è guidare un partito incontro è guidare il governo e maggio a un certo punto in europa si devono fare delle scelte se si perseguono gli interessi dell'italia non si può andare dietro a paesi e lo abbiamo visto sul patto dell'immigrazione e dell'asilo giacome ha dovuto cambiare interlocutori diciamo che l'italia ha dato diversamente dall'ungheria mettiamola così questo è un dato di fatto quindi meloni dovrà fare delle scelte anche su quello che sono le scelte del pnr che stiamo facendo adesso che sono le scelte del pnr ci sono i commissari in questi giorni a roma del pnr quello è la pietra migliore a spendere 3 miliare su cui poi si girerà che non riuscite a spendere anche perché è fatto negli altri anni che molti soldi non si è avuto la capacità perché vede il problema non sono i soldi le persone capace di spenderli fatemi andare da mista ciao mista allora